Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e oggi vi porto il glitch degli outfit un pochino più ristretto ragazzi perché sennò a me durava una vita per tutti quelli che non riescono a capire ciò che io ho detto ieri allora vi ho lasciato delle tabelle, siete voi che dovete cercare in quelle tabelle i vostri completi da fare io purtroppo non posso stare lì a cercare tutto questo video inizialmente durava 18 minuti ragazzi ho tagliato parecchie parti quindi adesso vi vado a far vedere per esempio io adesso andrò a fare 4 completi alla cazzo ok però ovviamente alla cazzo intendo con delle parti che io so già che andranno ad uscire con delle parti che sono in quella tabella ragazzi per esempio se io uso questi pantaloni nell'altro personaggio donna mi usciranno i pantaloni a scacchi se io userò questo tipo di completo che sto facendo adesso quindi che voi a me mi continuate a chiedere fai 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 io ragazzi non posso stare qui e fare un'ora di video chi cazzo lo guarda un'ora di video? quanto me ce vuole a caricarlo? oppure fare un video per un solo completo? un po' difficile ragazzi mi sembra no? quindi io adesso vi sto portando 4 completi proprio alla cazzo alla cazzo di quelli che mi ricordo dei pezzi che escono fuori però anche voi abbiate un pochino di cosa mettetevi lì e provate la tabella non ve l'ho lasciata così alla cazzo per fare ho detto vabbè voglio lasciare la tabella qualcuno ieri se lamenta non si capisce un cazzo in inglese non è un problema mio se tu non capisci l'inglese io ragazzi per fare questo tipo di outfit ho dovuto prendere e mettere la playstation in inglese ragazzi in maniera tale da far combaciare tutto quello che c'era scritto nella tabella con quello che mi compariva negli outfit quando l'ho fatto una volta sapevo che pants erano i pantaloni che glasses erano gli occhiali e che cazzi e mazzi erano cazzi e mazzi automaticamente poi quando sono passato in italiano sapevo che quel pezzo era quello che quell'altro era quell'altro ragazzi un po' di immaginazione un po' di fantasia dovete avere nel fare i glitch non è che Maxi Mirk o gli altri youtuber stanno qui e se devono sbattire i coglioni tutti i giorni per darvi la mano certo io la mano ve la do però pure voi vi dovete mettere lì e fare i glitch non mi venite a dire ah ma per l'uomo o per la donna questo non è per l'uomo questo glitch è buono sia per il personaggio donna che per il personaggio uomo alcuni outfit si ottengono con il personaggio donna alcuni outfit non si ottengono con il personaggio donna e viceversa anche con l'uomo allora per esempio i jogger i jogger sono una cosa rarissima da ottenere con il personaggio uomo c'è un altro glitch per poterlo fare c'è il glitch della modalità regista che però richiede pure quello mezz'ora di rottura di coglioni nel duplicare i passer io ho trovato un metodo sicuro per far spawnare i jogger bianchi i jogger azzurri e tutto il resto però non mi va di stare lì a fare mezz'ora di video a cercare di farmi duplicare le guaglie, i passeretti o le passerine cioè io non ho pazienza ragazzi non ho pazienza la pazienza ce la dovete mettere voi per fare il glitch io vi posso mostrare il cammino vi faccio vedere come si fa ok? però poi il glitch lo dovete fare voi come ho già detto io per esempio adesso qui so che tutti questi pezzi che io sto andando a mettere mi porteranno a dei completi nel personaggio uomo e quindi vado a fare questi determinati completi come vedete non sto neanche cambiando per esempio le scarpe perché per esempio questo tipo di scarpe so per certo che mi andranno a portare una scarpa a scacchi per il personaggio uomo capite ragazzi? cioè il discorso è uno solo dovete provare voi io adesso qui sto mettendo come ho già detto delle cose alla cazzo per fare uscire dei completi però a seconda di quello che voi mettete con il personaggio uomo esce fuori qualcosa con il personaggio donna e a seconda di quello che voi mettete con il personaggio donna esce fuori qualcosa con il personaggio uomo ci sono tantissime varianti Maxi Milk non è che possa lì e provare tutte le varianti io posso portare un video ogni tanto ma come sapete voi e come vedete voi un video richiede 10 minuti 15 minuti allora uno chi cazzo lo guarda un video di 15 minuti due è macello girare un video di 15 minuti ragazzi stare lì e girare un video 15 minuti editalo chiacchiera c'è sopra e tutto il cazzo del resto insomma comunque come dicevo ragazzi questi sono dei completi buttati così qui uscirà il jogger uscirà non il jogger il juggernaut uscirà qualche jogger colorato tipo non so i mimetici i tattici ovviamente io adesso non sto qui a fare a dire quali pezzi se volete crearli uguali identici a questi in cui le sto creando io basta che riprendete la numerazione di tutti quanti i completi di tutti quanti i pezzi che io sto adoperando e automaticamente nel personaggio uomo vi ritrovate quei completi lì come ho già detto io li sto facendo solamente a cazzo perché per farvi vedere perché come ho già detto tanti mi hanno detto funziona solo per il personaggio donna ma non è così funziona anche per il personaggio uomo è ancora funzionante perché qualcuno ha detto addirittura con l'ora puntuale mi ha scritto 13.55 non funziona più ragazzi cosa che vabbè lasciamo stare io dico solo una cosa se non siete capaci a fare i glitch lasciate perdere in primis quello che ho sempre detto io rispetto tutti i miei iscritti rispetto tutti quanti però rispettate me ragazzi perché me dovete rispettare perché io sto qui e lo sto facendo per voi non lo sto facendo per me non lo sto facendo per la fama cioè se ci arrivo a un tot di iscritti bene se non ci arrivo è lo stesso non è che se entro domani non arrivo a 10.000 iscritti o a 100.000 iscritti io smetto di far video no me ne sbatte una minchia continuo a far video fino a che ne ho voglia io quando mi sorrotti i cojoni prendo più del canale oppure smetto di far video e non sentirete più parlare maximi allora io qui ho tagliato tutta la parte del creatore quindi vi lascerò qui in alto a destra il video integrale di come dovete fare questo glitch perché sennò sarebbe veramente durato 18 minuti ragazzi come vedete io qui c'ho un completo che questo completo ce l'avevo inizialmente su questo personaggio mi interessava lasciarlo e quindi adesso vado salvo questo completo su uno slot vuoto e poi vediamo gli altri che sono usciti ragazzi e ripeto sempre casuali li ho fatti ovviamente sapendo quali sono le parti che funzionano sulla tabella io ho fatto miliardi di prove miliardi vabbè è troppo esagerato però ho fatto tantissime prove per sapere cosa esce sulla tabella e cosa non esce 2 ho letto le tabelle punto punto per cercare di capire che cosa funziona e che cosa non funziona quindi non vogliate sempre la pappa pronta questo funziona questo non funziona come devo fare come non devo fare anche perché dopo un po' mi rompete la fodera del cazzo che dopo io rispondo si vi rispondo una volta vi rispondo due volte vi rispondo tre volte e ok però pure voi vi dovete rendere conto che dopo un po' diventate stressa cazzo è inutile restate lì mi bombardate pure in privato su telegram a chiedermi comunque ragazzi questi sono i completi casuali che io ho tirato fuori non è che avevo un'intenzione precisa di fare questi completi sapevo quali erano più o meno e questi sono usciti fuori come avete visto ci sono quei tipi di jogger qui un paio di jogger qui ci stanno vedete un tipo e l'altro tipo quindi dovete fare delle prove come vi ho già detto io più di questo non vi posso dire ragazzi perché io purtroppo non è che conosco alla lettera tutti quanti i pezzi che ci sono in quella tabella però leggendo facendo la giusta traduzione arriverete al dunque e quali sono i pezzi come ho già detto mettete la play in inglese magari ci capite meglio qualcosa questa è la data e l'ora in cui ho girato il video vi ripeto che è funzionante detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti no mercy ciao a tutti